Allora, il mio grande amico è produttore e cosceneggiatore di Prima Revoluzione, Gianni Amico, da mesi mi ronzava dicendo guarda che c'è un posto a Cannes dove forse noi potremmo andare, che è la semente della critique. Così verso gennaio, credo, forse febbraio, partiamo da Roma con scena e colonna, 12 pizze di visivo e 12 di suono dentro le valigie senza permessi in treno, messe le valigie sul treno e Roma, Parigi, riusciamo ad arrivare senza problemi in Dogana e andiamo in questa proiezione, laboratorio dove c'era una scena e colonna e mi ricordo che non era giusto essere lì mentre il comitato di selezione vedeva il film. Forse Gianni ci andò, che non era il regista, e penso che subito ci fu una specie di quasi sicurezza di andare. Allora, era il mio secondo film, era il mio primo film nel senso che uno fa sempre un'autobiografia col primo film, in qualche modo, o palese o nascosta. E prima della rivoluzione lo era. E poi Cannes, la Francia. Io vivevo da anni nel mito della Nouvelle Vague, quindi nel mito della Francia. Mi sentivo un regista più francese che italiano. Allora, insomma, eravamo quasi sicuri di andare e poi arrivò la sentenza definitiva, si va a Cannes. Eccoci, andare a Cannes veramente, c'è questa proiezione, mi ricordo di pomeriggio avanzato. Era in una delle salette nel vecchio palazzo del cinema, non mi ricordo come si chiamava, era una sala con un nome importante. Il film finisce, c'è un piccolo dibattito con il pubblico. È Louis Marcorel, che è un mitico critico degli anni Sessanta, l'inventore del cinema direct. È Louis Marcorel che fa così da tramite, tra me e il pubblico, e a un certo punto nel pubblico si alza Jean-Louis Godard. Io e Adriana Asti eravamo sul palco. Io mi appoggio a Adriana perché l'idea che ci fosse Godard, che si alzava, veniva a parlare, Godard sale sur le plateau con me. Beh, fu un momento di un'emozione e venne a dire cose che il film mi piaceva molto. Bene, naturalmente nel pubblico, in fondo, nascosto, c'era anche mio padre con mia madre. La proiezione mi sembrava che fosse andata bene, che il film fosse piaciuto. E poi questo colpo di teatro, questo colpo di scena, Godard che sale, così, a, in qualche modo, celebrare la mia iniziazione. Il giorno dopo ci sono i giornali. Allora, i giornali francesi piuttosto buoni, quelli vicini ai chei di cinema entusiasti. Leggo i giornali italiani, tutti molto, molto negativi. E io vengo preso da un furore spaventoso. Ricordo che Gianni, amico, tentava di placarmi. Volevo andare sulla Croazette e prendere a pugni, insomma, tutti i critici italiani che avevano, proprio, lo avevano proprio molto, molto insultato il film e lo avevano proprio, non so, da Grazzini del Corriere la sera, a Savioli dell'Unità. Insomma, era come se non fosse piaciuta a nessuno. Dopo il primo momento di rabbia, cominciai a riflettere. Cosa c'era che non andava? Cosa c'era che non andava ai critici italiani? È una storia che è durata lungo, non è che è finita lì. Ho pensato che eravamo come tutti attori sullo stesso palcoscenico della cultura italiana metà anni sessanta e che mi piace vederla così, insomma, e che c'erano proprio i buoni e i cattivi nel cinema. Io erano tempi in cui veramente non l'avrei fatto ma l'avevo detto io avrei ucciso per un'incadratura di Godard, questo mi piaceva dire. E così. Poi tutto questo arriva al sessantotto e dì, beh, io forse mi illusi che essendo scelto tra i sette film della Semen, della Critique, il film fosse completamente sdoganato con qualsiasi critica in tutto il mondo. Beh, mi ero sbagliato di grosso. Però era strano, era interessante. Era come avere un giudizio sul film prima ancora che il film fosse proiettato. Pasolini aveva visto il film, sì, appena finito, glielo mostrei subito. E ero molto contento perché di piacere molto di più che non il mio primo film con Mare Secca. Perché, non so. dopo scrisse un saggio sul cinema di prosa e il cinema di poesia, dove l'esempio del cinema di prosa era Ermanno Olmi, credo il tempo si è fermato. Il cinema di poesia era prima l'evoluzione. Addirittura mi ricordo, e tanti anni che non lo vedo, ma che in prima l'evoluzione c'è una sequenza in cui Fabrizio, il protagonista, va a vedere io infame e tu infamma. Dopodiché va a un bar dove c'è un biliardo e c'è Gianni Amico che fa un cinefil con due o tre minuti credo esilaranti proprio di autoironia di noi cinefil su noi stessi e che finisce con una frase per un piccolo gruppo storica e famosa che è Fabrizio, ricordati, non si può mica vivere senza Rossellini. Sono andato a Cannes 4 o 5 volte e non ho veramente mai avuto nessun premio. E' curioso che il festival da quest'anno darà una palma d'oro honore a un regista, un attore che non ha mai avuto dei premi a Cannes. E' un riconoscimento, intanto la sorpresa e quindi fa doppio piacere e poi che ti fa pensare che forse i film che hai presentato a Cannes non erano del tutto male, visto questa palma che arriva meravigliosamente in ritardo. Grazie. Grazie.